Non lascio questa amministrazione, lascio l'incarico più che altro, chiudo con il rendiconto 2016, un'esperienza bellissima, piena, intensa, a cui mi lega a questa amministrazione un'esperienza con il sindaco fortissima, quindi rimango legato al sindaco e all'amministrazione, ma si chiude nel mio ruolo, almeno di assessore, poi vedremo, per ora ho cercato di rappresentare quello che si poteva fare e si poteva dare, almeno nella mia posizione, nelle mie competenze, ho cercato di dare il massimo da cittadino che è stato chiamato a un ruolo e da professionista che è stato chiamato a ricoprire una funzione, quindi ho cercato di dare il massimo secondo quelli che sono poi i limiti miei, in tutti i sensi, come uomo, come professionista. Se dovessi indicare il risultato raggiunto di cui la Fibispa? Il risultato che ho raggiunto è innanzitutto un arricchimento enorme, perché ho conosciuto all'interno di queste criticità e all'interno delle criticità della macchina amministrativa ho conosciuto persone meravigliose, compagni e colleghi di lavoro meravigliosi, poi col sindaco che è un motore nucleare, è difficile subire la fissione anche a distanza, quindi è stata veramente un'esperienza bellissima, momenti difficili devo dire, perché ci sono stati passaggi anche difficili, però ci sono stati anche passaggi molto esaltati. Credo che chiudo un'esperienza con un rapporto che è andato oltre il ruolo istituzionale e di collaborazione, sia col sindaco sia con i colleghi di giunta, quindi esco arricchito da tante cose.